Parole, parole, parole. Nuovo appuntamento con la nostra rubrica quotidiana dedicata all'approfondimento dei vocaboli della lingua italiana. Quest'oggi iniziamo a parlare di alcune parole che appartengono alla sfera scientifica. Questa parola che abbiamo scelto per oggi è minuto. Minuto il cui significato può essere molto piccolo, di dimensioni minime, di poco conto o importanza, ma può essere anche preciso, esposto con cura, oppure può indicare l'unità di misura degli angoli e del tempo. Parliamo di una parola composta da tre sillabe, la cui etimologia ci dice che deriva dal latino minutum, cioè piccolino, dal participio passato di minuere, cioè diminuire, rimpicciolire, in quanto derivato a sua volta da minus, che è il nominativo di minor, ovvero più piccolo. La curiosità però che riguarda la parola minuto è che questo vocabolo in realtà ne genera altri, perché possiamo parlare di minuzia e da qui poi minuzioso, minuzzolo, minuteria, che significa accozzaglia di particolari piccoli, oppure cambiando genere il minuto diventa la minuta, cioè la prima stesura di un testo che prima ovviamente dell'avvento dei computer veniva scritta in maniera frettolosa a mano. Ecco, possiamo dire quindi che la parola minuto in realtà ha a che fare con altre molteplici parole e differenti concetti. Ovviamente però, come dicevamo, tra le definizioni c'è quella legata al concetto degli angoli e del tempo. Infatti già verso il 1500 a.C. gli antichi egizi avevano iniziato a dividere sia il giorno che la notte in 12 ore, potendo contare su 36 stelle che erano più o meno equidistanti lungo l'eclittica, che davano quindi luogo ad un orologio praticamente perfetto. Un migliaio di anni dopo circa, i babilonesi divisero l'angolo giro in 360 gradi, non solo perché era il numero più simile ai giorni dell'anno, ma anche perché questo numero era pienamente compatibile con il loro sistema di numerazione, che era sessagesimale, dato che 6 per 60 fa 360. Con i progredire degli studi matematici ed astronomici, già in tempi antichi, però la divisione dell'angolo giro in gradi e del giorno in ore è risultata troppo grossolana. Quindi sia i gradi che le ore sono stati a loro volta divisi in parti più piccole. E questo accadeva sempre perché a Babilonia la suddivisione è stata fatta per sessantesimi. Quindi sia i gradi che le ore sono stati divisi in 60 minuti. Era questa l'ultima curiosità che riguardava questa parola, la parola minuti. E io ovviamente non mi resta che ringraziarvi per averci seguito e darvi appuntamento alla prossima puntata di Parole, Parole, Parole.